Detto questo, l'Italia, una volta che ci siamo lasciati, sono ritornato in Italia, poi è iniziata una fitta serie di colloqui, di conversazioni telefoniche, mi hanno cercato in molti, abbiamo iniziato a prefigurare una nuova proposta. L'Italia, devo dire, ha contribuito attivamente quindi alla determinazione della nuova composizione delle cariche di vertice, che a mio avviso appare nel complesso più equilibrata rispetto alla precedente e soprattutto non è stata soppesata e tarata esclusivamente in base alla logica dell'affiliazione politica.